La voragine di tutti gli anni è cresciuta, ormai si comportano nello stesso modo, ormai sanno che il no è fatto da imbecilli che pagano, nessuno prende in mano il fucile e comincia a tirare, come noi dobbiamo fare un pagamento pagano senza riattivare, però facendo dei singoli minuti, diciamo il testo delle singole cose e poi vedremo come va, così stiamo perdendo tempo, a conto della lega, gli andesi sarei orgoglieto di essere padano, non solo leghista, la lega è obbligata a restare all'interno di centenze democratiche, io dico che bisogna, che sappiamo mettere i piedi a un Parlamento padano, con tanti e diversi ministri, i quali faccio, ragiscono come se Roma non esistesse, come se l'Italia non esistesse, alcuni partiti francesi dicono basta euro, perché sanno che uscendo dall'euro loro riconquistano il completo potere nazionale, cioè la nazione francese avrebbe tutti i poteri riconquistato che uscendo dall'euro, ma noi, se usciamo dall'euro, tutti potrebbero finire dall'euro, quindi a Roma, quindi in Piana, uscire, dobbiamo fare due cose, ci siamo obbligati, basta euro, va bene, però è niente l'euro, una moneta padano, va bene, veramente niente. Grazie.